Si può tornare a casa con la neve? Dopo che l'abbiamo evitata per due giorni, neve, anche roba, Marco inquadra, la situazione è meteo, porca miseria. Ragazze, commentate la gara. Poi dove arriva? Quando siete arrivate? 15 tesi me. Urla! Urla 15 tesi me. 15 tesi me! Io non ho commenti. Adesso mi ascizi, chi fa? Io sono ricarica da una gravità.